Metteremo a bilancio nei prossimi passaggi in Consiglio Comunale 20.000 euro all'anno per tre anni, quindi un totale di 60.000 euro che diamo concretamente, mettiamo proprio in tasca a quei giovani imprenditori che decideranno di venire a Bassano ed aprire una nuova attività all'interno del centro storico. L'operazione Salvataggio del centro storico passa attraverso il rilancio del commercio e delle attività produttive, per questo il Comune ha intenzione di finanziare a fondo perso giovani imprenditori che intendano aprire la propria attività a Bassano. In attesa dell'apertura di nuovi negozi ci si prepara intanto a tentare di rianimare le tante e troppe vetrine sfitte in città, mettendoli a disposizione, incomodato d'uso gratuito, ad imprese che vogliano sfruttare la visibilità del centro storico e il progetto Bassano Excellence. La battuta che abbiamo fatto è che questo è un progetto che si propone di morire presto, perché noi la speranza è che le vetrine prestano, vengano date in affitto e vengano in qualche maniera occupate da attività commerciali. Sono tante le vetrine sfitte a Bassano? Le abbiamo censite noi circa un anno e mezzo fa e all'epoca erano quasi 130, quindi in un perimetro di circa un chilometro quadrato, in un'area di circa un chilometro quadrato, penso sia un numero rilevante. Si tratta di primi passi, molte rimangono comunque le richieste della categoria. Continuamente chiediamo che venga attuato un piano pubblici esercizi per limitare il numero di bar che vengono aperti in centro storico, chiediamo chiaramente che venga garantita una maggiore accessibilità, che vengano magari modulate delle tariffe per il parcheggio più basse, più accessibili.